Ciao ragazzi, ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, un abbraccio da parte mia, spero siate bene. Un breve video, non mi auguro breve perché poi quando inizio a parlare, su un argomento molto curioso e diciamo stimolante secondo me per chi ama la lettura e la scrittura. Ovvero, leggere e scrivere nel 2022, nel 2023 ormai, pardon. Diciamo che è una questione che mi ha sempre un po' fatto riflettere e potrebbe suonare anche quasi come una giustificazione, come un alibi, come una scusa riguardo al tema soprattutto dello scrivere più che del leggere. Ma questo diciamo che è un argomento molto trasversale e che si può collegare a qualsiasi forma, diciamo, d'arte, quindi qualsiasi forma di produzione di arte. Quindi che sia scrivere qualcosa, che sia comporre musica, scrivere testi per canzoni, per musica, dipingere, diciamo, fare qualsiasi cosa che riguarda appunto la sfera artistica e creatività, diciamo, dell'uomo. Nel 2023, perché? Perché è un'epoca, e questo ormai diciamo che, diciamo, è ormai da tanti anni che diciamo che è così, in cui siamo alle prese con un aspetto mediatico, specialmente legato ai social, e qui che voglio arrivare, che ci vede distratti. Inevitabilmente. Teniamo, diciamo, come riferimento principale i social media, ok? Quindi tutti i vari social su cui siamo e quotidianamente, diciamo, ci troviamo a interfacciarci. E' inevitabile che chiunque, qualsiasi persona, dotato o meno di una dote personale e innata verso un tipo di arte, è inevitabile che questa persona oggi, e diciamo da vent'anni a questa parte, più o meno, sia condizionata da questo aspetto, nel produrre materialmente, nel dedicare il proprio tempo alla realizzazione di qualsiasi opera artistica. E secondo me è un condizionamento troppo, diciamo, è una fetta importante che influenza la persona che è l'artista, eccetera. Io faccio sempre questo paragone, diciamo, un po', diciamo, un po' forzato, se vogliamo, con i grandi autori, i grandi mostri sacri della, in questo caso, della scrittura. dicendo, diciamo, sostenendo questo, di fatto, cioè, scrivere un romanzo, scrivere un'opera, cento anni fa, duecento anni fa, trecento anni fa, ma anche solo cento anni fa, anche all'inizio novecento, in cui non c'era, non c'era internet, ragazzi, non c'era internet, quindi è tutto ciò che poi internet ha prodotto. Non avevano un cellulare grosso così, dal quale tu puoi, in qualsiasi momento della tua giornata, accedere a qualsiasi tipo di contenuto, qualsiasi tipo di informazione, ricevi messaggi da tutti, ogni secondo. Non c'erano queste cose. Quindi una persona, metto nei panni, che nel 1915 avesse l'ambizione, avesse la passione, il desiderio e la capacità di mettersi a scrivere un romanzo, di mettersi a scrivere qualcosa, caspita, aveva una... molte distrazioni in meno, e questo, secondo me, incideva tanto, e incide tanto oggi. Ripeto, poi sembra, suona molto come una scusa e non deve rischiare di esserlo, partendo dal sottoscritto. Perché se uno vuole impegnarsi in qualcosa, chiaramente vuole e ha la passione, che è la cosa principale, senza di quella non c'è nulla che tenga. Alla fine, il risultato, nel breve, medio, lungo termine, lo porta a casa, eh. Bello o brutto che sia, ma qualcosa che è legato all'arte, comunque alla creatività, non è bella o brutta, secondo me. È arte, è qualcosa. Cioè, chi l'apprezzerà, chi non l'apprezzerà, ma è comunque merita, merita, solo per il fatto di essere, diciamo, frutto della... della... della mente di una persona, merita di essere giudicata in maniera positiva, al di là dell'aspetto poi oggettivo di un'opera. Però dico, non si può negare che siamo distratti tanto da questi aspetti, e questo condiziona sia probabilmente la qualità delle opere che vengono fuori. Parlo di amatori, eh, di disordienti, di principianti anche, come sottoscritto. Non parlo dei... ci sono i grandi romanzieri, diciamo, contemporanei, sono dei grandi romanzieri, quindi, nel senso, non scrivono capolavori, bestseller, nonostante abbiano... siano su Instagram e su Facebook, quindi non è un assioma, certo, al mille per mille. Però, io credo che sia un argomento interessante un po' da... da considerare, perché è... sì, a livello di qualità, dicevo, c'è questa influenza, ma anche a livello... però un materiale di tempo. Cioè, io lo vedo nel... nel mio... nel mio piccolo, quando mi metto a tavolino a... a fare... a fare le mie cose, in questo caso a correggere la mia... le mie bozze, cacchio, c'ho... c'ho sto telefono che è lì e... 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 e mi guarda... e... e ogni tanto lo prendo in mano. Cioè, dovrei proprio nasconderlo sotto... nel cassetto, spegnerlo... ma neanche così basterebbe, perché comunque c'hai la mente sempre... cioè, c'è una... una... una fonte di... di... di distrazione perenne oggi. perché non è solo il telefono, sono tante... sono tante cose, cioè... la televisione... e mille altre cose. Cioè, è un discorso forse più complesso di questo... di affrontare in così poco, però... non so cosa ne pensate. Secondo me è un argomento che ha delle fondamenta. Secondo me è scrivere. Rimaniamo sulla scrittura, ma... ripeto, si può allargare a qualsiasi ambito. scrivere... romanzi, fiction, thriller, qualsiasi forma di... di scrittura di testo... nel 2023 ha un ostacolo in più rispetto a scrivere la stessa cosa, scrivere un testo... secoli fa. quando non c'erano così tanti, diciamo, sgambetti, chiamiamoli così, mediatici, di cui i social sono i... i re, i dominatori assoluti, a mettersi di mezzo. Questo, secondo me, è un problema. Nel senso, poi, sta all'autore, sta alla persona... averla meglio, quindi... mettere via il telefono, e quindi non farsi distrarre da tutto ciò. Però... sono la distrazione principale per una persona che vuole fare arte. che oggi è tutto il mondo che lo circonda, tutto ciò che ci sta attorno, che... da un lato ci... da un lato è fondamentale, è la chiave per poter scrivere. Perché se non vivi, se non ti guardi attorno, non puoi scrivere nulla. Dall'altro, però, è allo stesso tempo anche, diciamo, la... un'arma che ci si ritorce contro, perché allo stesso tempo ci può distrarre, ci può sviare dal nostro computer, dalle nostre parole. Non so se siete d'accordo con me, se lo spunto può essere interessante. Nel caso fosse così, vi invito a commentare, a dirvi la vostra nei commenti, e a iscrivervi al canale, insomma, a condividere un po' questo video con chi vi garba. Buona giornata, ciao ragazzi.